Allora, grazie sindaco per queste belle parole, credo che sia un auspicio che riguarda tutti noi, insomma, un patrimonio comune, una città portuale è il punto di partenza. Allora, vorrei darvi alcune note organizzative di come si svolgerà la giornata. Innanzitutto si comincia dalle persone, dal valore vero, dalle risorse umane, tutto è possibile se si investe in risorse umane. Devo ringraziare questi ragazzi, diceva il segretario generale, hanno tutti un nome e un cognome, il dottor Del Giovane che è stato il grande organizzatore di questa giornata, ma tutti, la dottoressa Ferrini, Francesco Papucci, l'ingegner Mainardi, l'ingegner Toni, il dottor Di Meglio, il dottor De Bari, l'ingegner Scarpellini. Li vedrete un po' tutti durante questa giornata, nella prima parte, perché faremo delle schede, delle presentazioni tecniche, diciamo così, piuttosto brevi, ma importanti per entrare nel merito di cosa è stato sviluppato negli ultimi tre anni. Lo faremo non in termini cerimoniali, con assoluta umiltà, ma per fare un punto della situazione, per capire come si contestualizzano nell'ambito portuale, a che punto siamo, insomma, proprio. E per questo abbiamo immaginato, accanto a queste presentazioni, a queste soluzioni, a questi prodotti, a questi servizi che vedrete, di avere anche dei discussant accanto a loro. Spesso si tratta di, ovviamente, esperti di settore, non italiani, per darci anche uno spaccato di come ci posizioniamo rispetto a esperienze estere, perché questo è importante, è forse la cosa magnifica del porto, la più rivoluzionaria, il fatto che sia una finanza, in essere nel mondo, i nostri rapporti, da quelli marittimi, commerciali, a quelli anche tecnologici, sono ovviamente di relazioni internazionali. La seconda parte è dedicata a una tavola rotonda, tra imprese e imprenditori, quindi si parlerà di innovazione, tra chi, come diceva il sindaco, la fa nelle mille difficoltà, perché certo l'Italia non è un paese accogliente per l'innovazione, insomma, quindi tra mille difficoltà, ma qui in Livorno ci sono veramente delle esperienze campione, come si dice, delle esperienze di grande successo, di piccole e medie aziende, però leader nei vari settori di competenza. Oggi vedrete durante la giornata che quando parleremo di esperienze in innovazione, in servizi, progetti, non ci riferiamo solo e soltanto al pezzo ICT, ITS, applicato alla logistica, ma ci riferiremo anche al settore industriale e ciò che può derivare da processi di innovazione sulle filiere industriali, ecco perché parleremo anche di LNG, di gas e di settori dove Livorno, al pari degli altri di cui vi parlavo prima, ormai ha raggiunto una maturità e quindi daremo conto anche di questa. Durante questa tavola rotonda sarà sottoscritto un protocollo di intesa, più che protocollo di intesa, una vera e propria agenda di lavoro, fatemela dire, è un po' anomalo come accordo tra noi e Confindustria Livorno, ringrazio qui, sarà ovviamente presente il Presidente Ricci, ma ringrazio anche il Dottor Genovese, e qui è il Vice Presidente, il responsabile del settore terziario innovativo. E' molto importante perché questo legame diretto con il territorio, con le imprese, è il valore aggiunto e che giustifica anche il nostro ruolo in qualità di ente facilitatore, visto che siamo una pubblica amministrazione. La terza parte poi sarà dedicata invece a scenari di tipo programmatico, delle policy, anche in ambito europeo, perché questo l'ho spaccato su cui poi in qualche modo ci dovremo confrontare. Non possiamo decidere se cavalcare o non la tigre, la dobbiamo cavalcare, dobbiamo capire quanto e dove essere dei player, essere dei protagonisti o dei follower, cioè quelli che seguono. Ecco, vi dirò che con molta amiltà, in alcuni settori, guardo davanti a me anche alcuni industriali, possiamo essere dei player, non solo dei follower, cioè di chi segue, e vedremo come. Durante tutta la giornata è aperto un punto bar, così faccio proprio tutta l'illustrazione al piano superiore, un punto molto suggestivo, perché c'è anche una bella aria, una bella vista del porto, quindi non faremo interruzione, chi ha bisogno di riprendersi lo può fare solo. A fine giornata, alle 5 e mezzo, graditi ospiti, sappiamo che, e li ringrazio di essere venuti, ci sono ospiti anche molto importanti, vengono da fuori Livorno, ci sarà alle 5 e mezzo, alla fine dei lavori, un giro in battello per quella che è la città più bella del mondo. Insomma, Livorno è l'unica città a porto del Mediterraneo, questo splendido patrimonio che speriamo presto, anche grazie all'innovazione, insomma, di rendere sempre più bella, fruibile, sicura, insomma, e quindi faremo questo giro. Durerà circa un'ora, perché quindi alle 6 e mezzo, 6 e un quarto, la fine della giornata, con un cocktail per quei coraggiosi che saranno sopravvissuti a tutta questa popò di organizzazione. Va bene? Allora, io comincio io, non perché sono Ciffa in Commander, ma perché in qualche modo volevo darvi conto del filo rosso, dei temi portanti, insomma, per in qualche modo introdurvi, accompagnarvi, e soprattutto per dare conto anche di un'attività intensa che ci è stata fatta, anche di condivisione, di programmazione, di ragionamento, cioè si parte dalle funzioni portuali che ci vogliamo dare, dal chi sono, cosa sono, dove vado e con chi, e poi si decide anche il che cosa fare. Quindi questo è molto importante, ciò che vedrete, i nostri infopoint sono fuori, oggi tra l'altro facciamo il battesimo dell'ultima nata, si chiama Monica, ci è piaciuto, tutti i nostri prodotti però hanno tutti nomi femminili, finché resisto, no, per esempio, è il Monitoring and Control Application, quindi Monica è un po' l'acronimo, è la nostra ultima arrivata, però nell'infopoint, forse avete già visto, potete vedere molti, dei prodotti, dei servizi, perché di questo si tratta, sono già attivi, funzionanti, come diceva il segretario, si utilizzano, ma fanno tutti parte di un percorso in termini di innovazione tecnologica, di un vedere il porto in termini tecnologici e di servizio, e la cosa che ci sta più a cuore veramente è del fatto che sono nati in termini di follow up, cioè, voglio dire, proprio di condivisione con gli operatori, con gli industriali, con chi questi servizi li utilizza. Posso, come? Cioè, faccio anche abbastanza semplice, per il livello che ho fatto. Non lo posso? Allora, posso anche dirlo con il cursore? Faccio la maniera tradizionale con il cursore. Allora, partiamo in qualche modo, in qualche modo da qui, no? Ah, scusate. Allora, partiamo in qualche modo da qui. Questa è una slide che quasi sempre inseriamo quando vogliamo cominciare un ragionamento, perché dobbiamo capire dove siamo, come siamo, quali sono i nostri punti di forza e di debolezza. La chiamavano tanti anni fa l'analisi slot, ma comunque ci serve a fare un punto nave. Porto Cor, perché di qui cominciamo. Non è stata una battaglia facile, ma oggi è la realtà, cioè Livorno, e all'interno, voglio dire, del core primario a livello europeo. Questo è un aspetto molto importante che ci dà opportunità, perché ci rende leggibili per finanziamenti, ma che in qualche modo ci obbliga anche a mantenere standard e servizi di un certo tipo. I classici, io mi concentrerò, e voi dite bene, no? Quelle che sono i punti di forza, la geografia, l'italiano port leader, ma la cosa più importante, direi, riguarda, mi concentro su quelle che sono opportunità e rischi. Ha ragione, il segretario generale, insomma, di Laura poi, dei punti di vista su il come, il sentiero. L'unica cosa certa è che Livorno ha bisogno di uno sviluppo di tipo infrastrutturale, perché ormai i fondali, le dotazioni che abbiamo non ci permettono in qualche modo di ricevere, no? E di far fronte a quelle che sono le nuove tendenze del mercato. E' anche vero che questo non basta, perché Livorno ha elementi anche di debolezza, voglio dire, su quello che è il settore intermodale, servizi ferroviari, riorganizzazione dei servizi logistici. Quindi è sempre un mix, no? In questa maniera di quello che... L'altro è veramente le opportunità. Le opportunità, come sapete, sono legate non solo agli sviluppi dell'intermodale, di quello che parlavamo prima, del grande progetto della Darsena Europa, ma noi crediamo che anche dei progetti di cui stiamo parlando oggi, di come siamo riusciti a spingere, a stressare sui servizi in tema di telematizzazione, in materia di modernizzazione del nostro porto, può davvero rappresentare una chiave di volta. Partiamo di qui, guardate. Al di là di tutto dobbiamo immaginare qual è, quale potrà essere, quale dovrà essere quella che io definivo prima la funzione portuale. Questa è l'area mediterranea, sono i porti del core network, ma c'è un elemento di interesse, vedete, sono disegnati in maniera molto schematica i grandi corridoi europei, e cioè quella che è la sponda sud del Mediterraneo, quest'area mediterranea dove ormai le funzioni portuali, funzioni hub, funzioni gateway, si sono in qualche modo già selezionate per conto loro. Insomma, i grandi porti hub sono lungo la direttrice che va da Suez, ormai sulla sponda sud, qui vedete, anche senza riferimenti geografici, ma si va da Tangeri, ai grandi porti egiziani, fino al Pireo, insomma, che ormai hanno una funzione leader hub. Quello che possiamo fare ormai, dico ormai, ma è una soluzione, è una selezione di funzioni importante, un'opportunità per Livorno, è quella di porto gateway, cioè di punto d'ingresso, punto d'ingresso ai grandi mercati, alle grandi direttrici nord, ma soprattutto per quello che ci riguarda est. Abbiamo messo questa slide, ha lasciato un po', ormai una slide matura che tiene conto di studi che circa 6-7 anni fa furono lanciati dall'ITMA di Anversa, un modello che dava conto di quali siano gli elementi, le variabili che condizionano lo sviluppo di un port gateway, quindi di questo reticolo di rapporti, di connessioni sia marittime che terrestri in cui il porto è lo snodo centrale. Però, molto spesso, ci si ferma a analizzare questo livello, che è un livello meramente infrastrutturale, un livello che è assolutamente rigido. Ebbene, tra i vari piani da considerare negli elementi di sviluppo invece c'è l'altro livello che sta sotto e che quasi mai viene portato avanti in maniera sincrona rispetto ai grandi progetti di sviluppo del porto e cioè l'innovazione l'ITS tutto ciò di cui parleremo oggi riesce a dare flessibilità ai processi quindi ci sostiene in due modi nel breve e medio periodo perché come dico sempre aspettando la piattaforma Europa abbiamo bisogno di accogliere traffici adesso di mantenere il porto adesso in termini competitivi aperti di connetterci adesso ai mercati quindi in qualche modo di ottimizzare le funzioni portuali nei momenti di passaggio ma ci supporterà dopo anche quindi durante accompagnerà lo sviluppo infrastrutturale in qualche modo renderà aiuterà a ottimizzare anche le funzioni che su questi nuovi terminal portuali saranno organizzate a partire da quelle ferroviarie insomma ci sono porti come il porto di Coperno Europa dove ormai le quote ferroviarie stanno raggiungendo quote altissime ora ci sono casi molto particolari ma insomma assolutamente a due cifre Copera arriva al 60% al di là di questo intorno a percentuali funzionali del 25 24 25 addirittura Spezia come sapete arriva al 30% bene quindi è una funzione che può essere sviluppata non solo realizzando nuove infrastrutture ferroviarie ma come vedremo avendoci anche delle piattaforme telematiche di integrazione che riescono in tempo reale a connetterci a mercati fino a ieri quindi aumentando la nostra sfera di attrattività guardate come è suggestiva questa immagine l'abbiamo tratta da google e in qualche modo dà conto di diversi degli aspetti di cui ho parlato ora i grandi corridoi non voglio entrare nel merito di commenti su quella che è la riforma della legge 84 in questi giorni a di là di ciò che definisce la politica ci sono poi dei cluster e delle funzioni territoriali che hanno quella che io definisco la loro naturalezza in termini concreti di studio di facility il cluster alto tirreno quello che aggancia il corridoio ScanMed è formato così cioè va dalla Spezia a Piombino e come vedrete poi lo farò vedere in seguito lo dicono le facility territoriali le connessioni ferroviarie gli agganci ai corridoi al di là quindi di quello e in qualche modo qui si fissano quelli che sono anche i mercati contendibili cioè dove sono anche l'origine di destinazione delle nostre merci c'è un quadratino laggiù in fondo si comincia di qui quando andiamo a analizzare il che cosa come dicevo prima come deve essere questo porto che poi lo possiamo allargare anche proprio in termini di cluster connesso smart standard certificato in ognuna di queste parole sta il primo passo per decidere qual è la nostra roadmap per l'innovazione connesso significa in tempo reale poter chiudere una nave a Rabatto a Tunisi immediatamente avere tutti i documenti dalla certificazione sanità al porto di Livorno essere pronti perché i tempi di sosta siano ridotti a 5 minuti 4 minuti istradare immediatamente la merce se posso fare questo divento competitivo con porti finora sperati guadagno due ore quindi posso servire Milano faccio per farvi un esempio banale in tempi assai più veloci di quanto possa succedere in un porto territorialmente più vicino per esempio Genova oppure posso in qualche modo ci aiuta anche a ragionare in termini innovativi a come dover analizzare sia le alleanze strategiche con altri porti che le nostre opportunità guardate questa carta con un land bridge ben organizzato cioè ferrovie infrastrutture ferroviarie e con dei port community system che dialogano tra di loro Livorno può fare un'alleanza con Cooper può essere la banchina di Cooper per l'America cioè può riuscire attraverso un'alleanza strategica di questo tipo ad alimentare in auto i propri traffici dalla parte est ecco perché le infrastrutture sono chiaramente l'asset freddo importante di base ma senza tecnologie senza questo aggancio senza questa interdipendenza i porti perdono direi da qui ai prossimi anni veramente la loro opportunità tradotto solo banchina ormai non è sufficiente di questo cluster alteterreno questi due layer che quindi ho individuato uno infrastrutturale terrestre come dico io pesante freddo l'infrastruttura e l'altro tecnologico si sente dire di tutto si scrive di tutto però è bene puntualizzarle alcune cose molto chiare su questo cluster alto tirreno dove mi sto sbilanciando al di là di quello che viene detto sui giornali in questi ultimi giorni questa cartina geografica dice molto della della toscana e ci fa vedere come ormai da spezia a piombino siamo tutti porti equalizzati sulla stessa direttrice anche in termini ferroviari intorno al nodo di pisa e da lì attraverso il valico quindi attraverso il nodo di firenze sul corridoio nord nord sud guardate tengo molto anche a questa quella di sinistra è una cartina ufficiale di rfi e notate che cosa c'è guardate cosa c'è dalla pianura padana in giù questa è una cartina che dà conto di quale sarà la situazione delle infrastrutture ferroviarie dopo il 2017 e di quelli che sono gli ultimi investimenti che rfi farà sulla nostra rete va bene è incredibile come vedete sotto Livorno vedete quelle linee blu quelle danno conto del cosiddetto pc 80 cioè sono le sagome che permettono di fare ferrutage ai cube dei contenitori e quant'altro sotto Livorno come vedete a parte una traccia che collega la parte adriatica non c'è più niente quindi al di là delle funzioni portuali come vedete si selezionò ormai è già stato deciso tra virgolette in qualche modo quindi il cluster dell'alto tirreno così come l'alto adriatico le due fasce alte che si irradiano sulla pianura padana e poi su valici sono ormai l'unico punto dove è ragionevole in termini tecnici in termini di logicità trasportistica parlare di punti gateway quindi di cui da ovest est saranno i punti di ingresso velocizzare modernizzare efficientare cioè rendere veloci importanti attrattivi questi punti di ingresso è l'obiettivo sano ragionevole che dobbiamo in qualche modo a cui dobbiamo far conto accanto vedete la cartina classica dei corridoi tra l'altro credo che saprete tutti Spezia ormai non aveva più il suo collegamento ferroviario tibre ragionamento che facevo prima vedete quel braccino color fucsia insomma che unisce la Spezia e Livorno sono due porti del core equalizzati proprio sulla stessa direttrice vedete dall'altra parte ancora in qualche modo poi ecco allora come vi dicevo prima infrastrutture infrastrutture tra l'altro seguendo quello che è un tema caro alla Commissione europea per la capacità dell'ICT e di tutto ciò che riguarda dell'innovazione di definire non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi quella che è la sostenibilità dello sviluppo infrastrutturale come diceva il segretario generale prima un elemento di limite che non è solo di spazio ma anche di risorse finanziarie qual è la formula ci siamo posti questo questo problema e cioè la capacità necessità di pianificare infrastrutture e banchine l'utilizzo dei dati chi pianifica bene qui si apre uno spaccato che al sindaco farà di sicuro piacere in realtà è difficile immaginare spesso ben 4 5 6 amministrazioni sono competenti intorno a un cluster come quello del porto per ciò che riguarda i processi di innovazione la cosa diventa ancora più complicata il porto si occupa di occupazione e come vedremo anche dopo se ne occupa perché risponde a dei bisogni precisi concreti a comunità portuale dei bisogni la città si occupa di innovazione perché su questo in qualche modo basa quelli che sono i suoi sentieri di valore di sviluppo le regioni si occupano di innovazione il ministero dei trasporti si occupa di innovazione tra l'altro lo riprenderò dopo ma l'autorità portuale di Livorno dagli ultimi tre anni implementi in base del ministero e molti dei risultati che abbiamo conseguito lo dobbiamo proprio a questa alleanza strategica eppure nessuno di noi ha competenze specifiche in termini di programmazione destinazione delle risorse sull'innovazione perché tecnicamente tutto è nelle mani del MIUR quindi la grande sfida che abbiamo è quello di polarizzare interessi progetti attività intorno a delle modalità di governance che in qualche modo dovranno essere cambiate dovranno essere riviste dovranno essere ragionate proprio anche per la natura del porto stesso che in qualche maniera in quanto nodo concentra su di sé tutte queste competenze criticità ma anche opportunità ebbè è chiaro che parlando di innovazione si mette in discussione la prima cosa che viene messa in discussione è la funzione dell'autorità portuale vi sembra possibile sviluppare questi tipi di attività essere questo centro questo nodo di cui stiamo parlando fino ad oggi questa capacità e necessità di dover programmare pianificare non solo infrastrutture e servizi se ci riportano indietro verso un mero gestore dell'area di Magnali è possibile questo tipo di sfida è una sfida anche curiosa che l'Italia sta cercando proprio perché come vedremo abbiamo qui dei partner anche vengono dalla Spagna dalla Francia Germania in tutta Europa ormai questa è una funzione quella di community manager di facilitatore di questo pianificatore lungo la catena ormai assodata in tutta Europa in Italia la stiamo mettendo in discussione credo che è necessario che tutte le istituzioni insomma ragionino perché viene meno una delle leve più importanti che il territorio ha per attivare dei processi virtuosi davvero di investimento e processi di valore qual è la strategia la strategia ne parlavamo prima quello che abbiamo seguito è quello dell'approccio di condivisione con la comunità portuale iniziare a ragionare su quelli che so che erano che sono le criticità le criticità di primo impatto i servizi come potevamo in qualche modo sostenere la comunità portuale un approccio che potremmo dire al mercato di risoluzione immediata con tecnologie disponibili standard certificate e questo chiaramente laddove non dimenticando mai anche quelle che sono non solo le questioni commerciali ma portandoci dietro come naturale che sia come autorità portuale tutto l'aspetto ambientale della safety della security tra l'altro aspetti che non sono mai disgiunti perché un porto è davvero competitivo anche in termini di certificazione di servizi solo se è sicuro sia in termini ambientali sia in termini di safety e di security come sapete bene abbiamo fatto delle scelte ovviamente importanti anche in tema di standardizzazione di quelle che erano le soluzioni che andavamo che andavamo cercando e soprattutto evitando che ci fosse un approccio episodico ecco forse la fatica che è stata fatta in questi anni ma che è il patrimonio più importante che oggi il porto di Livorno ha è la condivisione il fatto che è diventato un patrimonio comune e che tutto ciò che è stato sviluppato che abbiamo in itinere insomma di sviluppo lo abbiamo fatto con tutta la comunità portuale quando parlo di comunità portuale per un porto di Livorno mi ripeto ma è sempre bene ripetersi non parlo solo di terminalisti di operatori logistici Livorno è un porto industriale ha un comparto industriale importante che riguarda legato al chimico al gas and oil è una realtà che voglio dire proprio attraverso l'innovazione è necessario consolidare sul territorio in termini di sicurezza ma che rappresenta anche secondo noi una risorsa di sviluppo per il futuro mai abbandonare i processi industriali perché sono diciamo così lo zoccolo duro su cui si attivano i processi di innovazione insomma ecco gli assi della policy in qualche maniera li abbiamo così sintetizzati e così che poi li vedrete anche su come funzionano e su come operano tra di loro quindi la parte alta tutto il pezzo ICT ITS infrastrutture il Task and Port Community System il nostro PCS poi il Project Manager l'ingegner Scarpellini ci spiegherà quelli che sono anche sentieri di futuro sviluppo oggi è qualcosa che funziona che in qualche modo l'autorità portuale usa quotidianamente oggi diventa domani diventerà un'opportunità grande anche secondo noi di sviluppo anche in termini commerciali Meditracknet poi le vedremo e Monica come vi dicevo l'ultima nata ma vedete ancora c'è questo binomio cioè binomio di un terziario avanzato ma binomio anche di un'innovazione fondata sul settore industriale e qui a Livorno quindi sull'energia e ambiente l'autorità portuale è attiva già da alcuni anni sul settore LNG come vi dicevo con il Ministero dei Trasporti il MISE il Ministero dello Sviluppo Economico e oggi l'iniziativa Mining a livello nazionale è un'iniziativa leader e già dal mese di settembre faremo delle proprio delle attività delle iniziative mirate in termini conoscitivi anche sul territorio e beh qui qui abbiamo sintetizzato in qualche maniera spero che sia abbastanza chiara quella che è il layer dei sistemi informativi cioè quello che è il livello di sorgente l'ambito e le azioni che cosa stiamo diventando stiamo diventando o dovremo diventare bravi non solo nell'utilizzare delle informazioni nel capire quale sono significative nel trasformarle industriali delle informazioni in qualche modo so che qui ci sono insomma esperti di settore tecnici forse questo mio modo può essere considerato un po' troppo poetico ma si comincia di qui io credo che prima della scienza ci vuole un approccio in qualche termine filosofico no? perché cambierà profondamente il modo di vita di quello che sono gli equilibri anche gli assetti di un porto e su cui che può generare delle tensioni li vedremo perché inevitabilmente quando si spinge sull'acceleratore delle innovazioni in qualche modo si rivede anche in termini abbastanza profondi quella che è l'organizzazione del lavoro ma libera risorse e proprio attraverso la liberazione di queste risorse su cui noi dobbiamo e possiamo investire come vedete le fotte delle informazioni poi le vedrete proprio individuate meglio nel proseguo si parte da dei sensori di espositivi per quello che sono le attività di monitoraggio con Monica da oggi noi abbiamo un sistema in 3D in tempo reale di monitoraggio dello spazio portuale lo vedremo dopo con abbiamo anche integrato all'interno di questo sistema che vede questi tre punti quindi sono la parte il port monitoring system d'altra parte il TPCS dall'altra parte la piattaforma Meditracknet che abbiamo sviluppato con Regione Toscana è molto importante lo ribadisco tutto ciò che vedete qui è stato sviluppato consolidato prima in termini di soluzioni pilota poi sviluppato consolidato attraverso esperienze importantissime sia a livello europeo per ben due anni il porto di Livorno è stato all'interno della fascia delle dieci best practice della Commissione europea su questi settori sia con Regione Toscana i fondi POR il grande programma dell'infomobilità di Regione Toscana prodotti e soluzioni gemelle con il porto di Piombino ma i cluster quando vi dicevo delle facility queste soluzioni questi sviluppi in qualche modo li stiamo portando insieme con Regione Toscana e il porto di Piombino e quindi siamo in termini marittimi la regione più avanzata da questo punto di vista TPCS sono stata lunga quindi non mi dilungo ci sarà modo è il nostro POR Community System tutto ciò che riguarda l'ingresso uscita delle merci ormai oggi a Livorno è fatto in termini telematici ma stiamo andando oltre perché Livorno è già in grado di effettuare le procedure di pre-clearing quindi non riguarda più solo il contenitore ma grazie al TPCS oggi siamo in grado di fare procedure di pre-clearing sulla tua strada del mare quindi sul RO partiremo da settembre con la Tunisia in diretto contatto con l'Agenzia delle Dogane perché tutto ciò che è stato di sperimentale l'abbiamo cominciato qui al porto di La Spezia questa è la nostra piattaforma Meditracknet molto importante tutte le tecnologie che vedete applicate che sono ormai leader a livello europeo sono state sviluppate in qualche modo e integrate da aziende livornesi e devo dire questo è un motivo anche di orgoglio per questo territorio per queste risorse importanti soluzioni che in qualche modo stanno adottando oggi molti altri porti oltre noi e che ci danno la possibilità di come posso dire di integrare davvero di rendere questo faccio vedere che stiamo anche ormai in qualche modo il nostro interporto Vespucci è diventato una vera e propria piattaforma retroportuale in termini infrastrutturali come sapete c'è questo progetto dello scavalco dell'integrazione ferroviaria ma in termini immediati perché già questa è una realtà per tutto ciò che riguarda le RTC servizi a sospensione doganale oggi siamo in grado quindi di effettuare molte di queste operazioni in area retroportuale e questo dà un'opportunità grande al Vespucci ma anche al porto di Livorno che in qualche modo può organizzare anche attività di tipo industriale in termini più efficienti sul territorio guardate ci tengo molto a questa slide perché in qualche maniera prima si parlava di TPCS le nostre piattaforme sembrano un po' queste cose agganciate una futuribile qui si sta parlando di acquisizioni di traffici si sta parlando di collegamenti dirette con aree strategiche dell'area mediterranea di possibilità di connettersi anche con aree continentali come vedete le frecce oggi noi siamo come dicevo collegati in termini telematici quindi abbiamo dei veri e propri corridoi sia con l'area sud del Mediterraneo lo facciamo con il Marocco da settembre partiremo con la Tunisia stiamo già sviluppando l'interfaccia con il porto di Alessandra ed Egitto che come sapete il porto specializzato per tutto il settore fresco lo stiamo facendo in Libano creare questi corridoi immateriali ci permettere quindi di essere competitivi ovviamente partner strategici di primo livello con questi porti come si diceva prima ormai non solo sono porti ABE come sapete sono organizzati con grandi piattaforme manufattoriere dietro le loro spalle ormai quasi tutte in zona franca insomma ci sono già dei localizzati cinesi stanno già producendo ovviamente c'è un'instabilità politica in questo momento però vi garantisco che ormai è una vera e propria macchina produttiva in moto quindi collegarsi in termini efficaci veloci con questa piattaforma è veramente il punto di svolta e poi tutto ciò che riguarda il terrestre il ferroviario l'intermodale quei collegamenti che vi dicevo prima interfacciare il nostro PCS con il sistema di porto di Hamburgo con Dacosit permette per esempio Hamburgo potrà permettere a Hamburgo di quotare il suo ingresso dal Livorno e quindi ecco cosa dicevo cosa significa poi nel concreto in soldoni funzione gateway ecco cosa significa riuscire a garantire dei flussi crescenti di ingresso di merci nel nostro porto qui ci sono le schede a questo punto insomma poi ne parleremo dopo degli specifici di come funzionano poi le piattaforme che tipo di funzionalità danno parlavo di partire dal mercato partire dagli operatori è necessario però questo è compito della pubblica istituzione e credo oggi pomeriggio ce lo confermerà anche il direttore generale del insomma del nostro settore il dottor Puglia di tutto l'asse e porti anche l'Italia ha in ritardo ma l'importante è che ormai partiamo anche noi si sta ponendo il problema di dare linee guida un frame come si dice un quadro di riferimento per l'innovazione all'interno dei porti tanto è rilevante questa componente che non può essere lasciata certo all'elemento episodico all'elemento di base ecco per fare questo noi crediamo che ci sia la necessità di andare oltre cioè di sviluppare dei partenariati strategici con centri di ricerca cioè andare a sperimentare oltre questo tra l'altro ci sono delle incredibili opportunità in questo senso i porti rappresentano anche per centri di ricerca di eccellenza ora qui vedete nella scheda ho messo il CNIT che è il consorzio nazionale universitario in cui stiamo lavorando moltissimo quest'ultimo anno e mezzo ma ramentava prima anche il segretario di Sant'Anna di Pisa ma non vorrei dimenticare anche delle delle società importanti a livello nazionale vedo qui Tales e ci sono realtà importanti sul territorio come VAS quindi in questa necessità di capire di trovare soluzioni e di in qualche modo spingerci oltre quello che è il fabbisogno la risoluzione delle criticità giornaliere vedete avere partenariati di questo tipo a parte l'elemento di terzietà che quindi in qualche modo garantisce la pubblica amministrazione le soluzioni in soluzioni davvero importanti poi perché si tratta di soggetti come CNIT di livello internazionale ecco significa per esempio essere presenti laddove le polisi vengono determinate questo è un fattore che viene trascurato capisco che dal Livorno forse dalla periferia si senta meno ma è importante andare a definire le priorità giocandosi su questi tavoli i porti del nord Europa per esempio si sono garantiti in questi ultimi anni milioni miliardi di euro per esempio sul gas perché in qualche modo in termini lobbistici ce l'hanno fatta imporre questo tipo di asse in termini strategici in termini di innovazione dei porti i porti leader e quindi attraverso anche ESPO associazioni internazionali l'ESPO e l'associazione internazionale dei porti chi dettava le regole chi preparava diciamo così gli elementi normativi le direttive erano porto di Rotterda in porto di Anversa per l'area mediterranea l'area mediterranea veniva rappresentata dal porto di Valencia che è uno dei porti assolutamente più avanzati in questo settore ecco da quest'anno Livorno insieme a Valencia rappresenta l'area mediterranea Livorno ragiona in termini di priorità in termini di standard in termini di soluzione sono cose molto concrete che ci posizionano però soprattutto in questo spaccato in una posizione come dicevo leader ecco qui ci sarà dopo di me il professor Pagano che meglio entrerà nel termine di queste attività che abbiamo già avviato ma che credo avranno un'accelerazione fantastica soprattutto nella seconda parte del 2015 e del 2016 devo dire che mai come in questo momento e qui devo ringraziare anche operatori del porto come il termine ad Arsena Toscana siamo riusciti non solo a stimolare ma in qualche modo a convogliare anche le priorità degli operatori private quindi sono state certi tipi di ricerche di soluzioni saranno sviluppate proprio in sintonia e in collaborazione con i privati i privati ci stanno investendo anche in soluzioni di tipo innovativo che poi vi verranno presentate e quindi si tratta di sfruttare quello che è la particolarità del porto come vi dicevo prima il porto è un test naturale dove possiamo andare a come posso dire a immaginare a sviluppare tutte le varie opportunità che possono offrire per esempio le soluzioni machine to machine qui se ne fa alcuni sviluppi grafici insomma è quindi il lavoro che ci sta aspettando insomma su cui ci stiamo concentrando mentre ci portiamo dietro la parte più commerciale un lavoro che siamo sicuri riuscirà in qualche modo a ridefinire quelle che sono le nostre priorità la pianificazione strategica è una pianificazione che proprio non può andare a due velocità non può riguardare le infrastrutture occupandosi solo di servizi è un elemento abbastanza naturale abbastanza intuitivo questo legame va studiato da subito perché entrambi questi variabili si condizionano l'opportunità di investire in innovazione libera che genera e crea valore libera risorse umane libera risorse che possono essere investite in progetti di valore la nostra unica possibilità come porte per essere competitivi ma anche come aziende è puntare su questo asset come vi dicevo prima cavalcare da tigre qui non c'è se stare o aspettare che cosa succede va in qualche modo come posso dire cavalcata va in qualche modo governata lo si può fare solo se si hanno degli obiettivi abbastanza chiari le risorse territoriali ci sono di tutti i tipi imprenditoriali di ricerca le istituzioni mai come in questo momento possono e debbano ritrovarsi sotto il cappello dell'accordo di programma che garantisce anche risorse che vanno in questo modo secondo noi finalizzate anche in maniera massiccia proprio su questo su questo asset definire le regole del gioco che cosa significa definire le regole del gioco significa intanto per l'autorità portuale fare in modo e lo faremo di rivedere i propri regolamenti interni anche delle concessioni cioè in qualche modo agire come ente regolatore che innova non occuparsi quindi i piani di impresa sono piani di peso standard qualche anno fa ci siamo occupati dell'elemento di tipo ambientale per incentivare quelle che erano le variabili ambientali di sostenibilità ebbene oggi l'innovazione deve essere considerata come una delle variabili pesanti di un piano industriale di impresa proprio per tutti gli elementi di cui dicevo prima il porto innovation day finisce con un appuntamento al prossimo anno ringrazio il sindaco di questo appoggio del fatto che la città di Livorno sia sia recettiva sia accogliente sia attenta e che si aspetti una una sorta di di appuntamento fisso ecco noi con molta umiltà volevamo provare a lanciarlo però se la città il primo cittadino dice che si può fare anzi diventa un punto comune un tavolo comune di lavoro io credo che questo sia già un risultato veramente molto importante di questa giornata a prefigliere da quello poi che potremo vedere vi ringrazio tutti scusate sono stata un po' lunga siamo in ritardo però vi ringrazio molto grazie